Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione FIPI-Li. In A1 per lavori di manutenzione e posa di cavi elettrici, stanotte in orario 22.06 sarà chiuso lo svincolo di Barberino di Mugello in entrata in direzione Roma. Sempre stanotte per consentire lavori propedeutici all'installazione delle barriere antirumore sarà chiuso lo svincolo di Firenze Sud in uscita in direzione Roma in orario 22.06. Per la viabilità cittadina Scandicci, per un cedimento della carreggiata a causa di un guasto alla fognatura chiusa via De Ledda tra via Turri e via Pascoli. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!